e ciao a tutti eccoci qui io sono mm8 e siamo pronti anche oggi con un nuovo video oggi è mercoledì e quindi c'è il video mixato la parte 20 che vi ricordo per chi non lo sapesse ma penso che comunque alcuni di voi penso anzi parecchi di voi lo sappiano la parte 18 19 20 21 erano state cancellate e la parte 18 19 abbiamo già rimediato mancano appunto la 20 e la 21 e poi si ripartirà dalla 26 appunto però oggi pensiamo ad ascoltarci la parte 20 appunto che era uscita più o meno all'inizio di dicembre quindi circa un mese fa e mezzo direi anche quasi due mesi fa ormai visto che siamo non dico a fine gennaio ma poco ci manca insomma comunque riascoltiamoci nessun problema vi ricordo prima però di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto di attivare la campanella per non perdere mai nessuna notifica del canale di seguirmi su instagram dove tra l'altro da qualche settimana ho la pagina del canale mm8.nusticistanaelpallone andate a seguirmi anche lì e anche su facebook e seguite anche la mia playlist di spotify e adesso partiamo vai andate a seguirmi anche lì e anche lì e anche la mia andate a seguirmi anche lì e anche la mia impiccheranno giordi con una corda d'oro è un privilegio raro ruba sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro così lo impiccheranno con una corda d'oro è un privilegio raro ruba sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro così lo impiccheranno con una corda d'oro è un privilegio raro ruba sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro così lo impiccheranno con una corda d'oro è un privilegio raro ruba sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro salvate le sue labbra salvate il suo sorriso non ha vent'anni ancora cadrà l'inverno anche sopra il suo viso potrete impicarlo allora salvate le sue labbra salvatore 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Rubo sei germi nel parco del re Vendendo un per denaro Grazie a tutti 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 Musica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti